Ragazzi, state pronti al viaggio più satanico che abbiate mai visto In puro stile Double Vines Inizio del viaggio Yeah, pronti ad andare dal demonio Dal demonio! Pronto ad andare a fare la visita al demonio? Manca la peggio ma è suonabile Suonabile tra virgolette Il tipo di materiale sia, secondo me sono tipo scarti nucleari Cosa sei? Sono gasato e andiamo dal demonio E tu, Camparolo? No, sono una figlia E tu è qui da piano? Sì, è venuto ancora bisogno Cazzo sei adatto, il benzinaio del diavolo Sto per dare una caramella del viaggio Una caramella del buon viaggio E' una caramellina particolare Perché non solo ha un particolarissimo sapore Ha anche un incentivo, ti dà proprio questo incentivo A partire per il viaggio Proprio come Gulliver Io sceglierò una gialla perché a me piace di più il limone Però c'è anche una scelta arancione A chi piace di più l'arancia? Aspetta Aspetta Tra poco arriveremo in linea d'aria vicino alla chiesa Adesso quando inizia quel bosco Prima o poi dovremmo trovare La morte Una stradina per un cimitero Oppure un punto dove fermarsi Tutti i pali rotti Ah, è quella Guarda, eccola E questo qua è il cimitero maledetto Non è molto maledetto, è ancora la strada C'è proprio scritto cartello C'è scritto maledetto State attenti Cimitero maledetto? No, non è questo Figa se è serio sto posto Questo qui non è un cimitero maledetto Le due famiglie che abitano Una è quella lì E l'altra è di là No, no, è un'altra E poi due stronzi sui bordi No, no, è un altro cimitero Non ci stanno nel casetto Chi veniva di quelli lì? Sono morti di anoressia I macri Entriamoci a tipo il chiosco No, ragazzi, volete una granita Spartito del diavolo Dove ci sono quali morte ce n'avessi? Burzum Ma appare il demone Cosa ne pensi? I am complete Eh, Burzum Però non è bruciata sta chiesa Cosa c'entra? Eh, perché era un invito a venire qua Ah, ok A bruciarla Forse non l'ha bruciata perché è satanica È perché c'è il demone Di solito bevo la sprite, c'è scritto C'è dentro un satanista State attenti Ho sentito urlare Guardalo Ma che è satanico? Hai già trovato? Ma non lo vedo Ah, è quella roba mega piccola Come cazzo fai a leggerla? Oh, cazzo fai a leggerla Oh, cazzo fai a leggerla Cazzo fai a leggerla Non sa criticando le cellule Oh, no È gravissimo Che schifo puzzano È gravissimo Andare a vedere se ci sono altri cadaveri Non ci sono Come no? Ma è deluso Non ha neanche avuto la spiegazione Cazzo, ma va che belle colonnine Oh, cazzo fai a leggerla Che bestia quella farfalla Nuova sintonia Vecchia melodia C'è scritto Porca fai a leggerla Cazzo fai a leggerla Cazzo fai a leggerla Fai a leggerla Sparazione Non sono mega satanico Sto violino Adatto Anche il colore Timonic sonata Sparazione A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Selfie con lo spartito. Ma dov'è il demone? Eh non lo so, sarà a casa sua, non è venuto. Rift al principato. Ecco dentro la mosca. Porco Dio. Cosa c'è? Un moscone gigante. Queste sono le mosche di Satana. Eh sì. Le chiamate lui. Non c'è voglia di dire, vi mando le mosche. C'è un'altra di Springfield. Vediamo le sbunate a una seconda. Ciao baby. Quello ha fatto il principato di Lucidio. Questo? Faccio il video. Ma si può buccare? Vai a vedere se si può buccare a Trento. Vai vai vai, gira, gira dentro. Faccio il video. Facciamo una sfuggita via. Ma sei sminchiato? Ma porco zio. Principato di Lucidio. Principato di Lucidio. Il drift. Via. Principato. Cimitero maledetto. Fermo, aspetta. Vai un attimo l'interno. Le... Ma è qui. Vai un attimo l'interno. Driftiamo pure qui dentro. È proprio qui dentro. Ma che cazzo. Entriamo qui. Chi dra... C'è anche il codice della strada. 12 come il mio, tra l'altro. Ma che paura. Così puoi andarci. Puoi mandargli le lettere. Cazzo, è la mia parte preferita questa. No, io le odio, figa. Sono Marchers, demore di merda. Ti muovi? No. Cazzo di gay. Questo è già c'è in più. Dì, ma dovrebbe qualcosa che va. Danno anche alle tombe. E guarda, guarda il muro. Lì, lì, lì. Non sta mentendo di si cazzate Oscar. Per pararsi il culo, lo vede solo lui il muro. Sì, quello è il muro di destra, quello è il muro di sinistra. Sì, sì, lo vedete lì, la tomba di Mussolini. Di Mussolini, là c'è Stalin. Allora. 60 minuti. Badunce. Non si può bucare. Non si può bucare? Vedi che c'è là. Rago, se non tornassi indietro, via Campa se lo amo. Ti ama. Sì, di qua si passa. Vai. Ma c'è puzza di aceto? Satana culo, ma questi sudditi. No, no. Come è satana culo? Lo saranno cancellato? Minchia che finiscono. Satanissi, sacrificatevi i coglioni. Ma cosa ci sono pantaloncini di bimbi? Oh, qui qualcuno l'ha preso in culo. È orribile. Non ti ho farei ridere. Dovete vedere una lampida? No. È la prima lapide di tutto il cimitero. Alla cara memoria di Bollero Antonio, d'anni 70, morto nel 45. Figa, è il mio compleanno. Il tuo compleanno? 70. Allora, ci sono anche dei fiori morti. Sono di plastica e sono appassiti lo stesso. Raga, ma ho la domanda, ma... Se proviamo a dispeppellirlo, cosa succede, intanto qua dimenticato... Penso che prendi malattie abbastanza pericolose. Magari è morto di pezzo. Tifo, guerra. Saranno morti i virus dal 43, penso. No. No, di tifo no, durano 80 anni. Sto due? Eh sì. Eh, allora... Almeno... Tra due anni muoiono. Morriamo qua tra due anni. Eh, finalmente. Poesie sataniche. Ave Satana, unico sovrano, combattente, distruggi il nuovo ordine mondiale. E ognuno dell'Operi, che... Trio, Satana, casa della Titten, viva il caos, caos, viva l'anale. I becchini. Eh, non lo voglio vedere il cadavere. Ma sto Jordan, chi è che c'è sempre? Michael. Oh, c'è la zanzare tigre. Oh, c'è un guanto arancione. Perché? E perché va bene fare i satanisti, ma devi farlo con sicurezza. Questo video è offerto da Autodrago, l'auto che è bella. E questo è solo un tipo di vera auto, quella bella. Autodrago, per tutti voi che volete viaggiare. Benvenuti alla ditta, l'agenzia turistica Viaggi verso l'Inferno. Da Dragone. Numero civico 12. 12. Accettiamo pure Amazon. Ririta la centrale. Sono contento, non sono mai stato così vicino a una centrale nucleare, è bello. Qua, qua, a sinistra. Vai, vai, vai. Secondo il canzello. Ah, che sono andato contro il vetro. Addio centrale, è stato bello essere così vicino a te. Erotica. Eccoci a Torino con la Sphinx, volume 2. Cicaletta. So che non è facile per loro, ma neanche per me. Ma ditevi cosa vedete quando li guardate negli occhi, eh? Forza di mia madre, di lavorare, di mio padre, 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 di mio padre. E io, che è? Ma c'è un formaggio dentro? No. Come no? Solo farina. Come no, c'è un formaggio? E no. Non mangio. Dragonetti, cosa ne pensi? Te cosa ne pensi? Onesta, onesta. No. Che merda, i calavroni. Ma tanti calavroni? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Ah, siete oscuri. Chi è questo qua? Non mi ricordo. Nel nome del padre del figlio. Che cazzo fai? Non siamo riusciti a fare il video al diavolo, abbiamo fatto solo una foto. E abbiamo bussato, ma non c'era il video. Perché sono arrivati i deficienti a spiegare cos'è il diavolo. Let's go! All'ultimo posto satanico della giornata. Sotto la pioggia. Sarà il mio ombrello. A proteggerti. Speriamo. Fontana d'acqua. Non penso sia bevibile. Ah, quella è lì. Ok, quella è lì. C'è anche quello che viene da oggi. Col muschio, poi. Ed ecco l'angelo mortale in cima alla statua. Non ci resta che andare a visitare l'altra statua, quella demoniaca. Onde era questa? Questa è quella con l'angelo demoniaco. Ma quell'altra è quella demoniaca davvero. Bro, possiamo bruciare i piedini? No. L'obelisco satanico. C'è il tombino questo? Eh no. Adesso inquadra Omar il tombino satanico. Mamma mia. Fa paura solo a guardarlo da qui. Sei sicuro che quello non è quello? Questo è il tombino satanico. Questo l'ha cementato così satanico non esce più. È vero. Ma anche quello è cementato? No, questo. Ma pure quello? Questo è il tombino di satanico. Può uscire anche da lì. O forse quello. No, questo. Non mi ricordo. Devi essere sicuro. Devi chiedere a Omar. Lui l'ha inquarrato. È tutto da questa gita satanica. Attenzione Omar. Attento Omar che è questo? Si scivola. Ma secondo me questa roba è da terzo mondo. Cioè non è possibile. Ho detto che siamo in Sicilia un po'. Quello è telecologico. Hey, this is Double Bounce, you'll never cry. Cringe and dead, I like J. Christ. Brio is the name of my fucking town. So you have subscribed now. Brio is the name. Rex is the name. Brix is the name. Bounce is the name. Double, 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 double. Bounce is the name of the god you have to pray.